Let's go! Bentornati ovetti su leggende Pokémon Arceus! Nello scorso episodio abbiamo sconfitto Etelo e anche Giratina ed è uscito un aggiornamento di questo gioco dopo il Pokémon Presence. Aggiungerei, sì, lo so, benissimo, Scarletto e Violetto, lo so, i nomi sono strani ma non importa, sono comunque molto esitato, anche perché ho appena catturato Shamin su Diamante Lucente e Perla Splendente. E oggi cominceremo il, chiamiamolo, post-post-game di leggende Pokémon Arceus. Infatti abbiamo nuove richieste! E una delle cose più importanti però non riguarda le richieste ma lui, ossia Jinkcore, perché adesso lui vi venderà non solo un oggetto, ma tre! Già! Questo vuol dire che possiamo benissimo venire qui e vedere se ha un qualcosa di Rotom ogni 20 Pokémon, ma non uno, ma tre! Per me la cosa ha senso e basta così. Allora, giusto un secondo, tu ti evolvi? Ah, finalmente si evolve! Allora, dovrei andare in realtà a parlare con Risa, perché la cosa più importante di questo aggiornamento riguarda una quest che ci dà Risa, nella landa Ossidiana. Nella landa Ossidiana? Dovrebbe essere qui. Sì, esatto, quindi adesso andremo da Risa. E se avete aguzzato bene la vista, dovreste aver notato che abbiamo quasi finito il rango Tastelle. Ci manca davvero, davvero poco. Dovrei dormire, vero? Vabbè, sì, ci addormenteremo alla base qua, quindi fatemi andare... No! Fatemi andare qui alla base sull'altura e parliamo un po' con Risa. Perché questa è una cosa molto importante, gente. Molto importante, soprattutto se non avete ancora terminato il gioco. Già vi avviso però, a quanto pare, per sbloccare le quest di Risa e dell'espansione in generale, dovete per forza aver finito il gioco, ok? Quindi credo che basti sconfiggere di Alga e Palkia. Quindi... Allora, Risa, sono qui! Fatemi fare una bella capriola e... Voilà! Ne è passato di tempo. Ho sentito delle tue prodezze. Non mi hanno affatto sorpresa. Avevo già capito di che pasta eri fatto quando mi avevi tolto di torno quel cricket un'alfa. Non che io me ne sia stata con le mani in mano. Per qualche motivo, Munchlax ha cominciato a vagare in lungo e largo per tutta i sui. Munchlax, ma dove te ne vai stavolta? Qualcosa attira la sua attenzione e... Puff! Prende e parte senza nemmeno salutare. Ti dirò, non è che mi diverta ad andargli dietro. Cos'era quel suono? Sembrava quasi una specie di risposta a Munchlax. L'Arceus Fon sta reagendo a Munchlax e sta indicando una destinazione. Quel posto. Mi sembra l'isola rosa rugosa. Ho un brutto presentimento. È come se qualcosa di grosso stesse di nuovo per succedere ai sui. Ma forse è solo una mia impressione. Sono curioso di sapere cosa c'è sull'isola rosa rugosa. Andresti a indagare? Una nuova crisi! E allora si va verso l'isola rosa rugosa. Nel frattempo, vi ricordo che sul Federick Store è possibile acquistare, non in pre-vendita perché sono usciti tipo qualche giorno fa, i pacchetti della nuova espansione del gioco di carte collezionabili Pokémon astre lucenti. In italiano, mi raccomando. E, ovviamente, c'è anche la pre-vendita del nuovo pacchetto giapponese di carte Pokémon. Sto parlando di Battle Edition, che include anche Pokémon di sui, eh. Utilizzate il codice scontotonks per avere il 5% di sconto sul vostro primo acquisto e scaricate l'app dal Play Store. Miau! Sembra che questo sia il luogo a cui era interessato il Munchlax di Risa. Torna da Risa e dille degli Zorua. Tanto per... Per fare questo video, e per fare quindi, diciamo, l'espansione, che aggiungerei... Sto registrando un po' in ritardo perché avevo almeno due video pre-registrati di Legend of Arceus. Non posso andare avanti con la quest principale, che è... R... no, Ypsilon, ok. Qua. Il Pokémon venerato come una divinità. E quindi non posso neanche fare le altre quest, ossia di Landorus, Tornadus e Tandorus, perché ci conviene, a quanto pare, prima finire questa. Un'altra cosa. Avrete notato anche che ho dei simboli qua sopra, ossia... Ah, posso volarci con... Grazie, ok. Ho dei simboli sulla mappa. Sono i punti di spawn delle tre brigantesse. Che se sconfitte nel post-game, vi daranno quattro pepite. Ogni volta. È un ottimo modo per fare soldi. Allora, Risa. Grazie per aver indagato. Racconta un po', cosa hai scoperto. C'era un gruppo di Pokémon. Aspetta un po', spiegati meglio. Che genere di Pokémon hai trovato laggiù? Zorua. Zorua, il Pokémon Rancor Volpe, eh? Pensa te. Sono abbastanza rari. Ne ho visti anche io tempo fa, mentre andavo per i ghiacci. Che ti prende, Manchlax? Ti incuriosiscono quegli Zorua? Oh, guarda un po' che sorpresa. È spuntato un altro Manchlax. Potrebbe essere uno Zorua? Illusione, ciccia? Beh, comunque riconoscere il mio Manchlax anche tra altri mille. Sei tu il mio Manchlax, no? Voglio dire tu, il più distante da me. Povero Manchlax! Hanno letteralmente messo il suono del vento per... Vabbè, come non detto. Però è strano vedere uno Zorua qui nelle lande. Spero proprio che non preannunci guai. Per stare sicuri, io ti consiglierei di fare rapporto alla tua caposquadra. Ma vedi tu. Ok, allora. Subito verso Selina. Certo, hey, avessi fatto le ultime catture per il Pokédex, magari. Avrei fatto meglio, ma... Ci andremo più tardi, ok? Torniamo intanto al Villaggio Giubilo. Il punto è, prima dell'aggiornamento, io volevo fare Spiritomb. Perché, gente, dobbiamo finire il gioco dopo tutto. A quanto pare, no. Il gioco non sarà finito per ancora un po'. Probabilmente dopo gli eventi di Risa. Andremo a fare tutte le cose extra. Poi andremo dal Pokémon venerato come una divinità. E poi, se c'è altro da fare, faremo le altre cose. Devo anche catturare Riannoun. Abbiamo ancora un sacco di roba da fare. Qua c'è una quest, nel frattempo. Ehm... Coricica! Dunque sei tu, l'abile ricercatore che fa il caso mio. Ho un favore da chiederti. Immagino che conoscerei già il tunnel minerario. Si trova vicino alla cascata ossidiana. Mi piacerebbe molto andare in quel tunnel, scavarne le pareti, e scoprire che genere di minerali si nascondono nelle sue profondità. Il problema, però, è che c'è un Pokémon spaventosissimo che mi sbarra il cammino. Non è che potresti calmare la sua furia? Ok. Grazie davvero, quando sarei pronto ad affrontarlo. Raggiungemi al tunnel minerario. Ok, ma... Richiesta 103. Quante richieste nuove abbiamo? Non lo so. Un'altra cosa! Fermi, fermi, fermi. Ehm... Qui... Dono segreto, tramite password. Sì? Sì, lo so, lo so. A quanto pare, ci sono cose molto interessanti, se... Metto appunto... Ar... Ce... U... S... Ad... Ven... Tu... S... Ho sbagliato a scrivere, vero? Errato. Sì, un attimo solo. Senza la S? Senza la S. Set di strumenti. Scaricate anche voi questi bellissimi strumenti che consistono in... Ora vedremo. Eccole qui. Ultra Ball, Gigaton Ball, Jet Ball. Grazie mille. Ok. Il gioco mi sa che si è salvato adesso. Vabbè, non importa. Selina! Un assembramento di Zorua in un luogo diverso dal loro habitat naturale. Sarà una conseguenza dello squarcio spazio-temporale? Difficile dirlo, al momento. In ogni caso, grazie per aver fatto rapporto. Una nuova crisi! Fatto! Wow, quanta roba! Tonks! Allarme! Allarme! Dopo che te ne sei andato, Manchelax ha iniziato a dare di matto, fiondandosi di qua e di là. E seguendolo, ho scoperto delle comparse masticce ovunque. Comparse masticce simultanee in luoghi diversi? Direi che qui siamo di fronte a un nuovo fenomeno. Propongo di chiamarle comparse masticce multiple, o semplicemente comparse multiple. Ho una missione per te. Indaga su queste comparse multiple. Oh, quindi posso contare sul tuo aiuto. Beh, allora io ti aspetto alla porta principale. Ed è per questo che adesso andremo, indovinati un po', alla porta principale. Non ho abbastanza soldi per ampliare ancora di più il mio borsello, ma non importa. Ora che abbiamo così tanti strumenti per catturare i Pokémon, non ne ho bisogno, almeno credo e spero. Cosa avevi tu? Ok, niente che ci... Cos'è il dispositivo trasparente? Un upgrade. Dubbio disco. Ok, non importa. Ho sprecato un po' i soldi. Oh no! Ah, e a quanto pare, finendo la quest principale, il Pokémon venerato come una divinità, otterremo nuovi vestiti. Quindi, sì, prima o poi prenderò anche io i nuovi vestiti, però prima risa. Per prima cosa, ti dico quello che ho visto io. A un tratto Manchelax si è messo a correre dritto verso un acquazzone. Al che mi sono precipitata per fermarlo. Se si fosse bagnato, sai, le rizzate. È a quel punto che le ho viste, comparse multiple ovunque. Quindi ho pensato, non è che sono proprio queste comparse multiple a incuriosirlo così? Se le cose stanno così, Manchelax potrebbe esserti utile in questa tua missione. E visto che sono preoccupata per lui, non me ne starò a guardare. Ti darò una mano anche io. Comparse multiple nella landa ossidiana. Questo vuol dire che ci saranno comparse multiple anche nell'acquetrino vermiglio, nella costa oltremare, nel Monte Corona alle pendici e neghiacci candidi. Non credo proprio di riuscire a finire tutte queste missioni in un unico episodio, se è così, ovviamente. Quindi, già, spero che bastino due episodi. Finora tutto regolare. Nemmeno Manchelax sembra aver avvertito nulla. Magari facciamo una pausa e vediamo se nel frattempo magari succede qualcosa. Piove. Grazie. E sembra che verrà giù ancora un bel po' d'acqua. Che c'è, Manchelax? È per via dell'acquazzone? Queste misteriose comparse multiple. Chissà a cosa sono dovute. Dove saranno? Perché non usi quella tua mappa sofisticata? Magari ti dice qualcosa. Oh! Quante? Una, due, tre, quattro, cinque... Ho perso il conto. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici comparse multiple. Le comparse multiple. Quando si verificano contemporaneamente più comparse massicce, i luoghi interessati vengono contrassegnati sulla mappa da un Oh! E dovrai recarti sul luogo, per sapere quali specie di Pokémon sono state avvistate. Affrettati ad investigare, perché le comparse multiple scemano con il tempo, quindi dopo un po', ciao. Perché la ricerca del luogo corrente venga considerata conclusa, dovrai catturare e sconfiggere Pokémon fino alla fine della comparsa massiccia. A volte, dopo che hai completato la ricerca di uno di questi luoghi, potrebbero apparire Pokémon aggiuntivi. Beh, adesso abbiamo scoperto dove si trovano le comparse multiple. Ora potresti raggiungere tre di questi luoghi e provare a scoprire qualcosa. Controllo la mappa, lo sappiamo già, ok. E si vola molto in fretta verso queste comparse multiple. Perché? Ovvio, gente, è a tempo, devo sbrigarmi. Mi chiedo se... Beh, adesso lo vedremo. Che Pokémon ci sono nelle comparse multiple? Ehm, suppongo Stuntler, qui, avrebbe senso, visto che siamo vicino a degli Stuntler. Ehm, e invece sono Pichu! Parlando di Pichu, in effetti, c'è anche Pikachu, ok. Allora, c'è un punto dove è possibile catturare molto rapidamente fermi, ok, dei Pichu in questa mappa, ossia qua in questo punto. Esatto, qua vicino. Ve lo dico perché Pichu sembra essere decentemente raro, in effetti, come Pokémon. Allora, una cosa da fare è mettere nei preferiti le Poké Ball, perché le ho tolte e non so neanche io il perché. Ora dovrei riuscire a fare tutto quanto, quindi andiamo di Ultra Ball per questi vicini. E cominciamo con le Wing Ball per quelli più piccolini e lontani, perché devo completare tutto quanto, vero? Ok, vai, c'è Pikachu anche, che è arrabbiato. Fortunatamente abbiamo una bellissima palla per colpire Pikachu, ok. Io ho già finito le pagine sia di Pikachu che di Pichu. Mamma mia, odio il fatto che le Wing Ball, a quanto pare, non funzionano molto bene nelle colline. Ma quando dico non funzionano molto bene, intendo fanno schifo nelle colline. Fatti colpire, fatti colpire. Ah! Perché Pikachu scappa? Perché questo no? No! Mamma mia! Ok, allora. Ci ha paralizzato anche. No, 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 no! Non ti azzardare a colpirmi così tante volte. Pikachu! Ok, allora. Abbiamo delle queste. Usiamole. Usiamo queste. Rotoliamo via. Usiamo queste bellissime sfere appiccicose. Ok, perfetto. Et voilà. Et voilà. Ok, mamma mia. E devo completarne tre di queste, giusto? Chi mi vede? Ah, il Pichu. Ok, allora, un attimo. Pikachu ci odia, a quanto pare. Bene. Avessi ovviamente trovato un Pokémon un po' più carino rispetto a Pikachu e Pichu che avevo già nel Pokédex. Magari avrei fatto qualcosa di più bello, ma perché le mie Wing Ball non ha? Non funziona. Allora, senti. Stati fermo. Oh. Ce l'ho fatta. Sono finiti i Pichu. Devo andare a prendere anche altri Pokémon. No, non sono finiti, giusto? No, ce ne sono ancora. Dove stanno, però? Pichu, Pichu, Pichu. Pichu? Dov'è? Il temporale non accende a smettere. Eh beh, ci credo. È a tempo, gente, ma... Eccolo là. Lo vedo. Mamma mia, quanto lontano è andato. Per trollarmi così, eh? Proprio per trollarmi in questo modo. Fatti colpire. Ok. Avrò catturato Pichu. Sembra di... Forse no. Dai. Fatti prendere. Ma fatti prendere. Ok. Mamma mia. Sto lasciando queste cose, ma ovviamente dovessero esserci... Perfetto. Altre missioni del genere si farà un taglio, gente. Perché non posso fare così per tutto il tempo. Dunque. La prossima più vicina sembra essere qua giù. Quindi andiamo qua giù. Eh... Ossia... Qua. Se fosse un modo per sapere quali sono i Pokémon, sarebbe anche meglio, ma... Se devo semplicemente vederli. Che Pokémon abbiamo qua sotto? Bravissimo. Stavolta che siamo un po' più in pianura, magari riesco a fare qualcosa. Manchelax! Allora. Manchelax è un Pokémon raro. Si trova qui, eh. Eh... Però... È raro come Pokémon. Rispetto a... Altri Pokémon che... Noi non abbiamo ancora catturato. Quindi vai... Così. Ma scappa? Per caso? O ci affronta? Beh. Lo vedremo adesso se scappa o ci affronta. Eh... Scappa. Ok. Perfetto. Eh... No. No. Guarda. Abbiamo già catturato in effetti... Perché le Wing Ball e le Jet Ball non funzionano come dico io? Allora... Ah, ah. Fermi. Perché non uso questo? Dov'è? Furtivizzante. Ok. Bene. Meglio così. Ora posso lanciare Poké Ball. Mamma mia. Anche meglio di prima. Perché i Pokémon ci noteranno meno di prima. Manchelax è uno dei Pokémon rari che spawnano qui alla landa ossidiana. Lo dico perché... È importante. Ok. Vai. No, 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 no. Manchelax. Perché non stai fermo un... Secondo? Ok. Allora, dovesse scappare. Sono pronto. Mi avete detto in effetti che... Ok, perfetto. Adesso andiamo qua, allora. Mi avete detto in effetti che quando la Poké Ball si scuote solamente una volta, vuol dire che la cattura è già completata. Bene. Allora, andiamo di Jet Ball stavolta. E... Tentiamo di stare un po' più... Qua. Abra! Ok. È importante. Abra è raro come Pokémon. Cioè, non è che è raro, è... Eh... Trolloso. Lancia. Perché appunto ti teletrasporto ogni tre secondi e... Quando è vero che ne ho catturati un po', non ne ho catturati abbastanza. Oh mio Dio. Il cursore appena li vede proprio. Ok. Vai. Ah no. Ne ho catturati abbastanza. Wow. Ok. Allora, dov'è? Abra. Voilà! 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 Ok. Ci arrivo? Sì. Ok. C'è un altro laggiù. Devo finirne tre, ha detto. E se è davvero a tempo, potrei avere problemi. Allora. No, no, no. Potrei prendere. Ok. Cosa uso? In teletrasporto? Sì. Dov'è Abra? Il temporale si sta calmando. Ok, ce l'ho fatta. Fiuff! Ah. Bene. Quindi, vuol dire che dopo un po' se ne andranno via le cose, eh. Le cose intendo i Pokémon delle comparse massicce. Potrei approfittarne per andare anche qui nel tunnel minerario, ma... A questo punto forse è meglio evitare. E da quello che sto vedendo ci ho messo davvero troppo tempo a fare queste cose. Quindi sicuramente andremo, ehm... Com'è che si chiama? Ehm... Quando andremo nelle prossime zone si farà un taglio, gente. Però questo è anche un buon modo per formare Pokémon Shiny, no? Sì. Grazie per le tue ricerche alla landa ossidiana. Quante belle cose! Hai scoperto qualcosa di nuovo sulle comparse multiple? Piove. Questo è. Non riesco a capire perché i Pokémon si radunano quando c'è un acquazzone. Non mi è chiaro se Manchelax reagisce agli acquazzoni o alle comparse multiple. L'unica cosa da fare è proseguire con le ricerche. Facile a dirsi, certo. La landa ossidiana l'abbiamo più o meno perlustrata. Ma le domande aumentano invece che diminuire. So via, non mettere su il broncio. Non si addice certo a quel tuo giovane faccino? Ah, signora Genaria. Il fatto è che... Comparse massicce in concomitanza con dei temporali? È un evento inaudito. Ma in fondo, che vita sarebbe senza qualche sorpresa di tanto in tanto? Dopotutto, non succede certo tutti i giorni che dei Pokémon discendano sul Tempio di Sinnoh. Che i Pokémon stiano reagendo all'apparizione di Palkia? Non lo trovo del tutto improbabile. O di Dialga, eh? O di Ghiratina, volendo, eh? Siete diretti al Villaggio Giubilo, per caso? Vi consiglio di visitare il negozio di Maru. Perché? È frequentato sempre da molte persone. E dove ci sono tante persone, c'è immancabilmente un grande scambio di informazioni. Ma certo, il salone acconciature di Maru. Ottima idea. Potrebbe avere senso, non c'è un bar, quindi. Magari incontriamo altra gente che ha visto queste comparse multiple. E grazie a loro, forse potremo scoprire qualcosa di nuovo. Allora è deciso. Vi attenderò al salone acconciature. Perfetto, ma la domanda è questa. Abbiamo ancora delle comparse massicce qui? Giusto, multiple. Aggiungiamo. Faccio un taglio, magari trovo un Pokémon Shiny. La mia domanda, però. Qui spawnano Shellos. Però è una comparsa massiccia di Cadabra. Ok, mi va bene? Sì, però abbiamo già il livello 10. Pazienza. Ok, uno. Nessun Pokémon Shiny. Due. Mentre lottavo con i Cadabra, è spawnato un Alakazam. E poi un Alakazam Alpha. E con il temporale finito, sì. Se ne vanno via tutti quanti i Pokémon. È importante come cosa. E adesso che ho catturato 27 Pokémon, possiamo anche andare un'altra volta a Raghinkgore. Eccoli qua. Due Alakazam e il resto sono Cadabra. Va bene. Però, suppongo che possano spawnare qui anche Pokémon non presenti nella landa ossidiana. Perché? Perché c'erano Zorwan nella scena. E quindi. Allora, uno, due, tre. Non è che abbiamo magari finito? Ci mancano 270 punti! Torniamo al villaggio. E controlliamo tutto. Quando dico tutto intendo tutto. Ossia parliamo con Jinkgore e poi andiamo da Maru. Allora. Cosa abbiamo qui? Scatola meccanica. Quando è meccanica... Mi dia... No, 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 no. Mi dia un secondo, caro. Non ho abbastanza soldi. Fammi vendere qualcosa. Tu vendi roba? Cioè, compri roba? Sì, ok. Ok, perfetto. Avevo delle pepite. Dunque, la scatola meccanica, di solito meccanico, vuol dire... Sì, sì, in vero intenditore, meccanismo strano. Questa qui è... Visto che è una scatola, suppongo sia il forno di Rotom. Giusto? Noi abbiamo quasi tutto quanto, eh. Ci manca solamente il forno e la trebbiatrice. Forno, eccola qua. Scatola meccanica. Quindi, trebbiatrice... Ha senso? È una parola italiana? Non lo so, mi è venuto in mente. Taglia erba. Ok, ce l'ho fatta. Allora, parliamo con Risa e Maru e poi vediamo cosa fare. Parlami. Tonks, la signora genera ti aspetta? Su, sbrigati. Ho sentito parlare di quelle comparse multiple. Se vuoi sapere cosa ne penso, e anche se non lo vuoi sapere, ti dico che per me sono delle feste tra Pokémon. Delle feste. Un cliente di Ioto, è importante gente, eh, mi ha raccontato che in quella regione, nelle notti di luna piena, i Clefairy si riuniscono per danzare tutti assieme. Non ti ricorda queste comparse multiple di cui parla la gente? No? Pokémon che si radunano in presenza di condizioni particolari. Insomma, è quello che ti dicevo prima. I Pokémon hanno il loro festival degli acquazzoni. No, assolutamente no. Non per l'acquazzone almeno. Cos'altro hai sentito, Maru? Quel fermaglio è un Cinderace? Vediamo. Un'amica del Team Diamante mi ha raccontato una storia che sembra un po' tirata per i capelli. Che storia? Sembra che l'acquitrino vermelio ci siano state comparse massicce di Pokémon Alpha. Ouch. Secondo te è possibile che degli Alpha si ritrovino in massa in un posto solo? Io dico che qualcuno ci ha visto doppio. Comparse massicce di Pokémon Alpha. Brutta storia. Se dovessero diventare comparse multiple, sarebbe un bel guaio. Neppure la regina delle Cresce sarebbe in grado di tenere testa a comparse multiple di Alpha. È più che naturale crucciarsi per ciò che non comprendiamo. È anche per questo che Tonks sta indagando, dico bene? Per porre fine a questi nostri crucci. Giusto. Allora adesso ci converrebbe andare all'acquitrino vermelio, per vedere di capirci qualcosa in più su queste comparse multiple. Magari domani però, risa. Appunto, faremo questa missione domani. Pronto a partire per l'acquitrino vermelio? No, domani. Ti aspetto alla porta principale. Fammi sapere quando sei pronto a partire. Ve l'ho già detto, molto probabilmente si faranno un sacco di tagli se devo fare queste cose ogni volta. Magari se succede qualcosa di interessante tipo, hey, magari trovo lo shiny, lascio la parte, ma oltre quello basta così. A tal proposito, abbiamo un'altra richiesta dalla pilla. Però ce ne sarebbe un'altra che abbiamo accettato. Ricordate? Perché io me la ricordo, ero legend. Quindi sì, andiamo un'altra volta alla landa ossidiana. Comparse masticci di Pokémon? Dove? Qua? Ah, ma non comparse multiple. Un attimo. C'è un'altra richiesta qua? Nuova richiesta? Oh, miei dei. Ok, andiamo con ordine, ok? Cominciamo con questa. C'è un Magikarp Alpha! Ok, l'ho sentito a stento. Magari trovo anche la cattura, dai. E l'ho preso. Perfetto. Carina come cosa. Molto carina. Comunque, nel frattempo che andiamo verso il tunnel minerario, è importante dire che i punti in cui spawnano le brigantesse non sono sempre gli stessi. Ad esempio, qui spawna Ridis, ma può spawnare un po' più a sinistra o un po' più a destra. E si resettano ogni volta che entrate nel villaggio. Quindi fate landa ossidiana e villaggio giubilo, landa ossidiana e villaggio giubilo, finché non spawnano. Una volta fatto ciò, starete freschi. Possiamo scendere, Snizzler, grazie, ok? E fammi andare su Weirdir, ok? E sì, sono tanti soldi. Vi conviene farmarle? Sì, sono lotte molto molto facili. Gli hanno Pokémon al 61, mi sembra. E basta così. Mi sa che devo affrontare lui adesso. Ah, eccoti. Guarda quegli occhi scintillanti. È quel che si dice un Pokémon alfa, n'è vero? Non vorrei che nella sua furia facesse venire giù l'intero tunnel. Ok, devo calmarlo, quindi devo sconfiggerlo. Per logica. Pachinko! Go! Tanto, ehi, abbiamo Clorofillaster. Neanche servi, in effetti. Clorofillaster. Potremmo usare Energy Palla e basta. Ehm, ma no. Chou! Powerful Clorofillaster! Mi sa che lo butto giù io, il tunnel. Oh! Il contracolpo ci ha fatto più di metà vita. Quindi vuol dire che, in base a se la mossa è... Ehm, rapida o potente. Clorofillaster toglie più punti vita all'utilizzatore. Ok. Accidenti. Allora ci sai fare sul serio. Quest'Onix alfa sembra essersi finalmente calmato. Ho forse parlato troppo presto? Sbaglio all'aria di volersi scatenare di nuovo. Tu dici? Dico altro che. Mi è venuto un bel dubbio. Ma non è che forse Onix, anziché essere infuriato, stava semplicemente scavando nel tunnel? Beh, in tal caso, potremmo darci manforte. Allora siamo d'accordo. Da ora in poi, io e te siamo compari. In fondo, quale Pokémon compagno migliore per un minatore, se non un Pokémon fatto di roccia? Grazie a te ho guadagnato un valido amico. Come ricompensa per i tuoi sforzi, ti sei meritato una roccia impegno, che sono in realtà abbastanza rarrucce. E anche pezzi di ferro, eh? Alcuni scavano per cercare rocce da cui realizzare statue di Pokémon. A me invece, piacerebbe un po' trovare quel carbone di cui parlava Rapan del Team Perla. Tu sei l'antenato dei minatori di Mineropoli! Allora, mio nuovo amico, sei pronto a fare a gara per vedere che riuscirà a scavare di più? E ve lo dico anche perché minerario, Mineropoli, non c'è spazio, siamo prima della cosa del Monte Corona. E se qui sorgerà prima o poi, com'è che si chiama? Giubilopoli, vuol dire che qui sorgerà Mineropoli. Credo. Vabbè, ce l'ho fatta, gente. Quindi, nella prossima parte di leggende... Ah, dovrei tornare un attimo al campo base. Eh, un attimo solo, dai. Dicevo. Nella prossima parte di leggende Pokémon Aresias! Non ti mangiare la Avengeridos. Ok. Andremo avanti con la quest di Risa, facendo numerosi tagli perché, ripeto, se dobbiamo andare qui a fare una quest per fare le catture di comparse multiple, dovrò farla anche per questa zona, per questa zona e per questa zona. Quindi, se trovo uno Shiny bene, altrimenti pazienza. Quindi, adesso vi saluto. See you next time! Dice me! Grazie a tutti.